Ciao Marcello, ciao Delio, ciao a tutti i Juventinazzi, un saluto da Tonino Romano di Cerce Nasco in provincia di Torino e un saluto anche dal nostro Gigio Porta Fortuna, il nostro Gigio l'aveva previsto, ce l'aveva confidato a me e Mattia che la Juve avrebbe calpestato l'Inter, l'Inter che aveva come logo il serpente, ebbene la Juve gli ha schiacciato la testa, a questi serpenti gli abbiamo schiacciato la testa come San Michele ha schiacciato la testa del serpente, noi i Juventini gli abbiamo calpestato e distrutto e schiantato la testa, adesso sono distrutti, non c'è più un interista in giro, sono scomparsi tutti, la trasmissione chi l'ha visto ha già preparato un programma, un intero programma per cercare tutti questi prescritti che non si trovano, sono spariti tutti, perché loro fino a ieri festeggiamano, siamo da Scudetto, li prendiamo, siamo l'antagonista della Juve, adesso state lì, state dietro e baciateci le spalle, scusate, lo stavo per dire, non si può dire, comunque bella prova dei ragazzi, bella prova di Massimiliano Allegri, anche se il suo ultimo anno caro Marcello, tu me lo ricordi sempre nei video che io sono molto critico, non è che io sono molto critico Marcello, sono realista, Massimiliano Allegri andrà via e adesso ho saranno tutte rose e fiori in società, dichiarazioni di routine, però Marcello, Marcello, Marcello Lippi, Massimiliano Allegri se ne andrà, andrà all'Arsenal perché ha questa offerta, lui vuole andare in Premier e quindi ci saluterà. Per noi forse c'è imballottaggio Carrera, tu sai che io faccio il tipo per lui perché è un uomo di Conte, perché è un uomo di bianconero, speriamo che arrivi lui e se no non è un problema, ci accontentiamo anche di Francesco che è un grande allenatore, comunque la Juve continua e c'è e ci sarà sempre. Vorrei dire a tutti che siamo felici, siamo al comando, siamo pronti per battagliare in Champions, noi vogliamo andare avanti il più possibile, noi vogliamo quella coppa, nel nostro sangue scorre il sangue bianconero perché noi ci crediamo. Adesso vi voglio far salutare da Mattia e il nostro cameraman, ciao a tutti da Tonino Romano e Mattia. Ciao Marcello. Ciao.